Vado a ricostruire quello che lei ha ben sottolineato, perché è la necessità di intervenire per sostituire gli impalcati sul viadotto per motivi di sicurezza evidente, però c'è modo e modo di intervenire. Di fronte alla situazione di evidente emergenza ho disposto un sopralluogo urgente dei tecnici del Ministero, avvenuto lo scorso lunedì 5 febbraio, quindi ieri l'altro, per rilevare lo stato del traffico e delle code generate dall'attuale configurazione di transito. A seguito del sopralluogo ho richiesto alla Prefettura di Torino la convocazione di una riunione urgente del Comitato Operativo di Viabilità che si è tenuta nella giornata di ieri, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti della Regione Autonoma e della Valle d'Aosta. Gli esiti della riunione hanno stabilito l'apertura dell'intera sezione delle due carreggiate del ponte sul Chiuselle di tutte le rampe di interscambio di Pavone-Canavese e lo spostamento del filtraggio per garantire il rispetto del vieto di transito ai mezzi pesanti dall'interscambio di Pavone allo svincolo di Albiano. Quindi in due giorni dal sopralluogo alla decisione.